Sto facendo parte di questa nuova. Vai. Ah, facendo. Ecco, vai palco, bravo. Ora vinci. Cioè, sono duro un abbattimento. Ok, dove è la blu? Blu. Prima è la rossa. Ora è blu. La per sé funziona. Ma perché quando bisogna provarli sono così sensibili? Invece quando sei al combattimento e te non prende neanche un punto. C'è uno che... Ok, no, no, no. Ok, ok, ok. Vai, vai. Dai, Sofì! Ma cazzo, dolcevo c'è. Vai! Cazzo! Cazzo! Vai, Sofì! No, ma la colpita sui colpi... Ma perché non vanno questi punti? No, ma perché... No, ma... No, ma... No, maha! No, ma piga! Eh, salgo! Quello è il problema! Vai, Sofia! No, cazzo! Vai! Cazzo! Vai, Sofia! Ma se viene un colpisce in testa, forse non ci arriva, no? Vabbè, peraltro è un azzardo, è che poi tu non si pari. Vai, Sofia! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai! Io non capisco quanto manca! Vai, Sofia! Sofia! Io non capisco quanto manca la cancia! Io non capisco quanto manca la cancia! Vabbè! Vai! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Sofìa, vai! Vai Sofìa, vai! Sì!